Professor Ciampini, Il Leone e la Montagna è il titolo di questa mostra. Come mai avete scelto questo nome? Leone e montagna vogliono essere i due segni identificativi del sito dove lavora la missione archeologica. La montagna è quella che rappresenta l'elemento naturale, che è stato alla base della nascita e la fioritura di questo insediamento dell'antica città di Napata. Il leone invece è forse uno dei segni più rappresentativi della cultura meroitica Al-Jabel Barkal e in generale in Sudan e soprattutto diventa un po' il segno rappresentativo del lavoro che è stato condotto nel settore meroitico di Napata dove proprio i leoni costituiscono un elemento importante nell'iconografia e anche nella statuaria portata alla luce nello scavo. Come è nata l'idea della mostra e qual è il messaggio che vuole dare ai visitatori? La mostra nasce dietro una serie di proposte che sono venute da varie parti e devo confessare che la cosa che mi ha maggiormente colpito in senso positivo è stata la disponibilità e l'interesse che anche Ca' Foscari ha avuto nel supportare da un lato l'idea, l'allestimento e poi soprattutto averla voluta ospitare in una sua sede che mi sembra poi anche un segno importante perché Ca' Foscari è legata all'attività che conduciamo. Quindi da una proposta iniziale col tempo logicamente poi si è definita in maniera più puntuale la progettazione della raccolta dei materiali e soprattutto va segnalato il fatto che le autorità sudanesi sono state favorevolmente impressionate dal progetto e hanno concesso l'esportazione di questi materiali che per la prima volta vengono in Italia. Cosa significa per lei come docente di Ca' Foscari ma prima di tutto come gittologo per aver potuto dare seguito a questa campagna, questa importante campagna che è prima di tutto una campagna italiana? È un segno diciamo, è il risultato di un impegno che logicamente non è solo mio, anzi io faccio parte solamente di un insieme di attività e di responsabilità che vengono portate avanti da persone legate a Ca' Foscari ma non solo a Ca' Foscari e l'idea di questo progetto di ricerca, di questo progetto di scavo può essere considerato un po' il punto di forza di una presenza costante nel territorio sudanese, della cultura anche italiana perché non dimentichiamo che l'attività svolta sul territorio ha una ricaduta sia per il Sudan che per l'Italia e questo credo che costituisca un po' il punto di forza per la ricerca che in genere gli archeologi fanno all'estero. Siamo qui davanti alle teche di questa mostra e come vediamo ci sono vari oggetti e varie fotografie ce ne vuole raccontare uno in particolare? Beh, diciamo che in questa prima vetrina abbiamo un po' da un lato la storia della missione ma dall'altra anche un po' il segno rappresentativo, quel leone di cui si è parlato prima e che rappresenta forse un po' l'elemento distintivo della cultura meroitica in questa area di scavo. Il frammento di statuina che vedete qui esposto insieme a materiali storici della missione può dirsi rappresentativo proprio di questo valore che viene attribuito all'iconografia del leone inteso sia come rappresentazione della regalità ma anche come entità divina. Questo leone infatti ha un corpo di serpente che probabilmente mette in evidenza proprio la natura poliedrica di una entità che nel regno di Meroe tra il III secolo a.C. e il III d.C. diventa il vero capo del panteon locale una divinità che ha dei tratti legati al modello egiziano e quindi questo ci fa anche capire perché l'insegnamento di egittologia sia legato a questa attività di scavo in Sudan ma che è nello stesso tempo espressione della cultura locale. L'iconografia del leone è rappresentativa proprio di questo ambiente africano che viene percepito dalle culture settentrionali. Non dimentichiamo che la stessa Roma identificherà le aree meridionali dell'Africa che intravede nel suo orizzonte geografico come una terra popolata di leoni.